benvenuti io sono il cencio e questo è un nuovo episodio di silent il 4 the room nell'ultima puntata abbiamo ufficialmente concluso tutto il capitolo dedicato agli appartamenti e abbiamo visto che aileen è caduta vittima di walter sullivan è stata portata via da un'ambulanza purtroppo non abbiamo notizie del del corpo di quello che ne è accaduto non abbiamo neanche capito bene come è stata uccisa lei rispetto agli altri tipo c'era cynthia è stata fatta a pezzi jasper è stato bruciato e de salvo che era il guardiano della prigione è stato affogato e richard qua del palazzo è stato fulminato in una sedia lei non si è capito bene che cosa gli è successo quindi ovviamente avremo da scoprire tutta questa faccenda ma io so che morite dalla voglia di scoprire questa roba nel muro che sia creata qua tant'è che andremo a dare un occhio no fotografie di me da bambino quando ho preso la maturità niente di interessante ma quella cosa che nel muro invece lo è interessante questo cos'è è questa cosa è tipo un brutto bruttissimo inizio di un qualcosa che succederà molto presto al nostro appartamento molto molto presto avete presente quando io vi dicevo è adesso il nostro appartamento è una figata torniamo lì e ci curiamo poggiamo la roba ritorniamo nei mondi con l'incubo l'appartamento è il nostro luogo sicuro dove stiamo bene dove 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 nulla ci può fare del male col cavolo adesso ufficialmente il nostro appartamento inizierà a diventare parte dell'incubo e questo è solamente l'inizio del del male che si spargerà qui dentro vedrete vedrete che roba allora diamo un occhio abbiamo una tesserina del baphomet perché si chiama talismano del succube carta con sopra una specie di terrificante demone che io non riesco a vedere ma presumibilmente sarà sarà un baphomet vedrete molto presumibilmente sarà un baphomet diamo un occhio ups queste sedie mi intralciano sempre diamo un occhio di qua so they took the victim to saint jerome's yeah she's not gonna make it she had numbers in her back too Walter Sullivan copycat round three huh well they never got the scumbag behind round two a few years back maybe it's the same guy what if one two and three what if they're all the same guy what the hell are you talking about you know Sullivan killed himself the weird thing is there were no clues crime scenes were always spotless no fingerprints no fibers nothing just the numbers two zero one two one I've been a cop for a long time but I never seen a case like this one it's almost like like they were killed by a ghost or something beh qui abbiamo avuto la fortuna di ascoltare la conversazione della polizia non abbiamo capito come effettivamente sia stata quasi uccisa eileen perché abbiamo scoperto è ancora viva è stata portata in ospedale probabilmente non ce la farà perché le ferite sono estremamente gravi ma per il momento è viva non non sappiamo come è stata ferita eh mortalmente ma abbiamo scoperto che la polizia brancola nel buio e teme addirittura i fantasmi rendetevi un po' conto di di che situazione siamo con la polizia ora il punto è guardiamo prima lo spioncino e voilà guardate che è proprio sbiadita 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 eh di brutto di brutto proprio quasi non c'è l'ultima manata ora in un gioco dove i fantasmi sono così presenti e sono tipo il nemico principale è ovvio che al discorso del poliziotto che dice sembra quasi che ad ucciderli sia stato un fantasma non ci sono impronte non ci sono fibre non ci sono prove è ovvio che il giocatore dice eh beh sì è stato proprio un fantasma è stato proprio il fantasma di walter sullivan perché altrimenti fosse stato un essere umano gira rigira almeno qualcosa lo trovi capito un'impronta una fibra anche se non perfettamente identificabile però lo trovi qualcosa di strano qua invece non c'è assolutamente nulla vediamo un po il nostro oh il nostro amato buco si è chiuso il buco è ostruito qui è sempre macchiato di sangue puzza proprio come quella stanza piena d'acqua sotto la prigione cilindrica andiamo un occhio in camera ok perfetto qua è tutto a posto ok pare che l'unica cosa disturbante che si sta verificando nel nostro appartamento al momento è quella pustola nel muro le scarpe sono a posto ok tutto regolare tutto regolare il problema è che adesso siamo siamo intrappolati qui dentro a meno che è una specie di macchia a pensarci bene assomiglia anche a un demone malefico tan 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 e guarda caso noi abbiamo la carta con un demone hai usato il talismano del succube olè le quattro piastre leggiamo la descrizione perché ma che diavolo dopo aver celebrato il rito della sacra assunzione altri mondi sono comparsi nel suo universo che ha iniziato a gonfiarsi in maniera grottesca ma il suo universo è diverso dal nostro ha i suoi limiti e dentro i limiti di quell'universo comanda lui e nella parte più remota del suo regno c'è sua madre vedi rileggiamolo dopo aver perché lo dobbiamo rileggere? perché è un po' dopo aver celebrato il rito della sacra assunzione quindi è stato celebrato un rito altri mondi sono comparsi nel suo universo che ha iniziato a gonfiarsi in maniera grottesca ma il suo universo è diverso dal nostro ha i suoi limiti e dentro i limiti di quell'universo comanda lui ovviamente lui chi? di chi stiamo parlando? stiamo parlando di Walter Sullivan iniziamo a capire un po' di cose qua se aguzziamo l'ingegno cos'è il rito della sacra assunzione? probabilmente un rito che Walter Sullivan ha fatto all'inizio che ha portato poi alla creazione dei mondi controllati da lui quelli in cui lui comanda quindi quale possiamo dedurre essere il rito della sacra assunzione? o qualcosa che Walter Sullivan ha fatto e noi non abbiamo visto ma questo sarebbe narrativamente controproducente quindi raramente viene usata questa tecnica quando si racconta una storia non si dà spunto al giocatore come dire non si dà come indizio al giocatore qualcosa che il giocatore non conosce ok? si fa a volte ma è molto raro quindi noi possiamo tirando le somme possiamo dire che questo rito della sacra assunzione è o qualcosa che Walter Sullivan ha fatto ma che noi non abbiamo visto e non ne sappiamo niente oppure i primi omicidi sappiamo che gli omicidi di Walter Sullivan e noi sappiamo, cioè perlomeno sappiamo noi siamo quasi sicuri che siano compiuti tutti da lui stesso sono stati compiuti in tre fasi una prima fase in cui ha ucciso dieci persone si è suicidato una seconda fase in cui ha ucciso altre sette persone se non ricordo male i numeri non me li ricordo e l'ultima fase in cui ci siamo noi presenti dovrebbe arrivare al 21 quelle restanti persone quindi può darsi che una delle due prime fasi siano stati quelli della sacra assunzione forse proprio i primi dieci motivo per cui, ricordatevi Walter Sullivan si è suicidato proprio lo scrittore stesso ha sollevato questo dubbio ma se il suo obiettivo era uccidere 21 persone e lo capiamo dal fatto che nei corpi scriveva 1 di 21, 5 di 21, 8 di 21 perché dopo solamente dieci persone si è suicidato? no? perché direte voi ormai era stato arrestato, era in trappola si è ucciso vero, può avere senso ha pienamente senso a dir la verità ma se così non fosse? se fosse parte del piano? se proprio quei primi dieci omicidi fossero la sacra assunzione una specie di rituale per evocare questa espansione dell'universo questa contaminazione grottesca come definita proprio alla perfezione in questa descrizione fosse proprio questo il suo volere è una cosa che dobbiamo tenere di conto perché potrebbe essere e nella parte più remota del suo regno c'è sua madre ripensate un po' altro indizio che qui stiamo parlando di Walter Sullivan ripensate un po' all'argomento che Walter Sullivan tira sempre fuori la madre anche quando ci parlava di Eileen Galvin ci ha sottolineato tra tutte le cose che poteva dire tra tutte le cose che poteva esprimere in quel momento di solitudine e tristezza lì nelle scale cosa è andato a tirar fuori? il suo ricordo di quanto era felice Eileen quando teneva per mano sua madre madre che vi ricordo Walter Sullivan non ha mai avuto perché Walter Sullivan è stato partorito in questo appartamento ed è stato immediatamente abbandonato dai genitori entrambi i genitori madre inclusa è stato raccolto dall'ospedale è stato anzi è stato trovato da Frank Sunderland ancora neonato chissà poche ore dopo la sua nascita o magari pochi giorni dopo la sua nascita comunque non tanto perché sennò il neonato sarebbe morto Frank Sunderland l'ha consegnato all'ospedale di Silent Hill e da lì poi è stato preso dall'orfanotrofio che ne ha fatto quello che ne ha fatto quindi è ovvio che Walter Sullivan abbia una fissazione con le madri con la propria madre con la maternità perché è una cosa che gli è sempre mancata e per alcuni bambini può essere un trauma enorme ma non può essere così semplicistica la cosa quindi dato che al momento non abbiamo nient'altro da fare ci conviene vedere dove si va a parare qui innanzitutto ci servono le piastre speriamo di riuscire a portarcele tutte dietro se non riusciamo poggiamo le chiavi che al momento non ci servono e prendiamo la placca del caos raffigura un'immagine astratta la placca della vigilanza raffigura un occhio la placca della fonte raffigura un neonato e la placca della tentazione che raffigura una donna queste placche noi le stiamo come tutte le placche di tutti i Silent Hill le stiamo per utilizzare in un enigma che enigmone diretti voi avete visto che enigmoni che ci ha regalato questo Silent Hill 4 è praticamente un walking simulator non un survival un survival horror e però sappiamo benissimo che sebbene questa enigma non sia affatto all'altezza dei precedenti enigmi che queste placche hanno un significato che noi possiamo cominciare a immaginare già vediamo un po' cioè guardate come sono posizionati donna neonato sorveglianza caos questa ragazzi non c'è bisogno di essere dei maghi letteralmente per capire questa roba non c'è bisogno di essere esperti di occultismo ed esoterismo per comprendere questa cosa questa cosa è un simbolo è un messaggio potentissimo vedete come sono messe le piastre sopra sotto sinistra destra rappresentano gli estremi perché questa questa come la possiamo chiamare questa board ok questa pagina di lavoro perché questo muro adesso è diventato una pagina di lavoro è comparso solamente dopo aver posizionato la carta di un lì c'è scritto di un succube da quel poco che si intravedeva sembrava proprio un baphomet lo stesso baphomet di Silent Hill 1 quello che in realtà vi ho sempre detto rappresenta l'antico Samael un dio pagano che è stato poi cioè o dio si è un dio pagano che è stato ripreso dall'ebraismo come figura della religione ebraica che è stato a sua volta ripreso dal dalla religione cristiana cattolica e trasformato poi in baphomet e satana e il cattivo cosa che all'inizio non era e la cosa che mette sempre in confusione è il fatto che il team Silent ci sbatte sempre in faccia questa storia della figura di Samael in quanto divinità pagana quindi ha le sue origini quindi non una figura negativa affatto però poi ce la rigira sempre in un modo o nell'altro come un po' come il satana di oggi perché poi il culto è degenerato molto è diventato il satana di oggi che la possiamo vedere anche come simbologia e come metafora di come la religione stessa si è mutata nel tempo e la figura di Samael con essa per esempio da entità pagana benigna e del tutto positiva a satana al diavolo al cattivo assoluto totale superiore proprio un cambio netto ma comunque vada questa cosa seppur curiosa io personalmente non gli ho mai trovato una spiegazione quello che ci interessa a noi è tutte queste simbologie veramente veramente interessanti che riprendono appunto dalla figura principale di Samael quella che vi ho già fatto vedere durante la serie vi ho già spiegato durante la serie di Silent Hill 1 e che vi sto facendo rivedere adesso che vede Samael seduto con un braccio verso l'alto e un braccio verso l'alto e nelle braccia è scritto solve et coagula nelle rispettive braccia come vi ho già spiegato non lo rispiegherò di nuovo se volete sapere che cosa significa dovete andare a vedervi la serie di Silent Hill 1 però in poche parole rappresenta gli estremi così sopra come sopra così sotto come il buio così è la luce come la vita così è la morte ok i due estremi e qua stiamo vedendo al tempo stesso i due estremi ma al tempo stesso anche legati l'uno all'altro di cosa sto parlando a sinistra abbiamo la donna a destra abbiamo il bambino il neonato sono due cose estremamente legate perché non esiste l'uno senza l'altro ok e sono anche i due estremi è la donna che crea il bambino ok sopra abbiamo la fonte e sotto abbiamo il caos come rappresentata la fonte la vigilanza come dire la nascita del tutto con un occhio splendente occhio splendente che da sempre è il simbolo di dio di dio non come attenzione non come il dio per esempio quello cristiano quello che viene rappresentato nella bibbia l'uomo vecchio e saggio con la barba bianca e buono per esempio dio come entità superiore agli uomini che vive in un piano diverso dal nostro e che osserva controlla gestisce tutto ok un'entità veramente superiore non non relativa a nessuna religione in particolare viene sempre rappresentato così con un occhio splendente in basso abbiamo il caos di nuovo gli estremi dio che tutto controlla che tutto sa che tutto gestisce secondo i propri piani è l'esatto contrario del caos esattamente come sopra è l'esatto contrario di sotto esattamente come la donna la madre è l'esatto contrario del neonato la sinistra è l'esatto contrario della destra e viceversa ok questa roba qua è veramente veramente interessante vi fa capire come l'esoterismo sia un e questi argomenti molto particolari siano molto a cuore al team silent perché se abbiamo visto tutto sto gran macello nomi di personaggi sbagliati roba scritta coi piedi date messe a caso file audio posizionati a caso che iniziano e si fermano quando non devono buchi nella colonna sonora enormi anzi più che nella colonna sonora nel compartimento audio quindi tutto è stato trascurato all'ennesima potenza ma qui la cosa è stata fatta con estrema cura e meno male aggiungeremo noi meno male però pensate la cura che è stata messa nel pensare a come posizionare queste piastrelle anche qui di nuovo gli estremi proprio gli opposti in questa roba comunque tutta questa cosa è il riferimento proprio all'immagine di Samael dei due estremi degli opposti dell'entità con il corpo mezzo uomo mezzo animale mezzo sopra mezzo sotto mezza luce mezzo buio mezzo bene mezzo male mezzo uomo mezzo donna capite tutti gli opposti tutte le estremità tutto quello che rappresenta in parte in parte Samael è rappresentato anche in questo enigmino stupidissimo delle piastrelline cominciamo veramente molto bello vigilanza poi tra l'altro molto bello molto interessante hai messo la placca della vigilanza nell'impronta mettiamo anche il caos che rappresenta un po' vedete tipo come vi dicevo no per esempio questo me sono dimenticato è dio che tutto controlla tutto vigila con il caos quindi l'ordine il caos ma anche il cielo e il sottoterra il bene il male perché attenzione sebbene il caos in realtà non sia affatto il male ci tengo a precisarlo perché tutto si basa sul caos nella natura il caos è delle due la forma più alta ed estrema di bene che ci sia spesso viene frainteso e visto come male però in questo caso possiamo tranquillamente anche interpretarlo come il bene e il male tipo dio il diavolo per esempio no l'ordine e il caos sostanzialmente questo è ma il caos non è male questo è molto importante ragazzi placca della tentazione placca della fonte olè era ovvio che avremmo fatto un danno enorme no? fare rituali nel ripostiglio qualcosa succede sempre di brutto quindi il buco dove mi condurrà questa volta? Eileen chissà se sta bene sta morendo quindi entriamo nel buco e andiamo a vedere dove ci porta chissà che non siamo fortunati dentro qui è o or o o o o o o o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tagliato, proprio così. Vediamo, rientriamo. E la donna si è alzata. Che non è più quella di prima. Buona buona! Ferutti. Che orrore, che orrore il comparto audio di sto gioco, che orrore. Però è diventato una specie... Che orrore! L'orrore in questo gioco non è quello che spaventa, è quello che proprio raccapriccia di questi file audio, delle notti d'estate. Madonna, dei momenti di silenzio, dei zombie che ruttano. Che peccato, questo gioco poteva essere un capolavoro, ma di quelli enormi. E invece abbiamo gli Frankenstein che rutta. Ma come gli è venuto in mente, mi chiedo. Io mi chiedo, capite? Come gli è venuto in mente di dire, ma ascolta, sappiamo questo mostro che sostanzialmente è un Frankenstein, no? È una donna che ha un insieme di pezzi di altri esseri umani morti. Che suono gli facciam fare quando Harry, quando il protagonista lo colpisce? Mentre che discutevano, questi del Team Silent, c'era dietro uno di loro che stava mangiando, stava bevendo la Coca-Cola, mentre che parlavano, gli scappa un rutto, bravissimo, tela giù in fondo, grande, proprio quello, fallo di nuovo, quello tira un altro rutto, lo registrano, ed ecco qua, creato il file audio del suono che fa il Frankensteinino donna quando viene colpito. È l'unica spiegazione plausibile che mi viene in mente, perché, boh, non so, non so che dirvi. Comunque, ora, scherzi a parte. Il tavolo operatorio. C'è qualcosa sopra coperto con un telo insanguinato. Non voglio neanche pensare a che cosa ci sia sotto quel telo. Eh, probabilmente è una persona che sta venendo operata. C'è uno strano oggetto dall'aspetto umano. Quindi sono pezzi di essere umano, anche qui. È importantissimo notare quello che stava facendo, è un tavolo operatorio insanguinato, quel tizio che Diamine stava facendo qui dentro. È importante notare quello che stava facendo Walter Sullivan a quella donna. Stava, aveva aperto il ventre, esattamente come si fa in un parto cesareo, e stava frugando nel suo ventre, nel tentativo di tirar fuori un bambino, probabilmente. Praticamente stava facendo nascere qualcosa. Poi il fatto che lui sia scomparso, che la donna sia scomparsa, e al suo posto ci sia il Frankenstein ruttante, è un altro discorso. Comunque, sembra proprio che siamo dentro un ospedale. Quindi gioite, perché possiamo immaginare... Ok, mamma mia, l'ho giusto a prendere tutti. Possiamo immaginare il nostro ruolo qui dentro. Sappiamo che Eileen... Dai, Giuse. Sappiamo che Eileen è stata portata d'urgenza all'ospedale, quindi forse, forse, forse abbiamo una chance di salvarla. Ok, nell'emergency room, dove c'era il putiferio e Walter Sullivan, ci sono 8.955 porte, che ovviamente non riusciremo mai ad aprire tutte. Mai. Difatti, serratura rotta. Perché figuriamoci se c'è un livello bello ampio. Ci sono diversi strumenti medici, ma non saprei proprio che cosa farne. Perché non sei un medico. Chi l'avrebbe mai detto? La header di Sanity 3 l'avrebbe trovato sgradevoli. O rozzi, com'era? Che rozzo? Trovava tutto rozzo. Qualcosa del genere. Non c'è assolutamente nulla. Oh no, 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 c'è una taglierina. C'è un taglierino? È un tagliacarte. Sì, un trincetto. No, voglio leggerne la descrizione. È un'arma. Originariamente fatto per tagliare carte, è difficile da usare come arma. Ma pertanto, non lo useremo. Qui invece abbiamo... Qui invece è un'arma. una bacheca, una lavagna luminosa che riporta le foto di Aileen e le sue ferite ci sono molte lastre appese allo schermo che siano le lastre di Aileen? ebbè, possiamo presupporre di sì ci sono molti moduli con su il nome ospedale San Jerome l'ospedale San Jerome non è molto lontano dal mio appartamento quindi probabilmente siamo all'ospedale San Jerome un sacco di attrezzature mediche è il promemoria di un'infermiera ho perso la chiave della stanza d'ospedale di Aileen Galvin era una paziente ricoverata con lesioni molto gravi mi domando se non l'ho lasciata in una delle altre stanze dell'ospedale spero proprio di no il promemoria utilissimo questo per esempio serve come indizio al giocatore per trovare la chiave però è un indizio pessimo perché semplicemente sarà in una delle altre stanze il giocatore ovviamente quando trova la stanza di Aileen chiusa a chiave la chiave la cerca nelle altre stanze c'è bisogno di dirglielo, è ovvio che è lì da qualche parte e poteva essere fatto carino cioè cos'è che l'infermiera? boh vabbè, è il solito discorso ragazzi, il solito discorso cos'è questo biglietto? Aileen Galvin E-E-N-Galvin E-L-I-N-Galvin E-L-I-Galvin insomma è tutto il nome di E-L-I-N-Galvin è ripetuto nelle varie sfaccettature millemila volte qua dentro c'era nulla no, un sacco di attrezzature mediche vediamo un po' da qui dovremmo ritornare esatto, nell'atrio principale qui tocca usare la mappa di continuo perché è difficile orientarsi ok, sembra tranquillo qui oh, una bevandina energetica oh, che adesso è diventata bevanda nutritiva la lampada è rotta e adegiata sul tavolo operatorio è un letto con le ruote lo usano per spostare i pazienti mi chiedo se E-L-I-N sia in questa stanza l'avresti vista? dove pensi che sia? alziamo questo scatolone vediamo se c'è E-L-I-N sotto E-L-I-N? sei qui? no allora forse qui dietro E-L-I-N? sei qui? no dove potrebbe essere ragazzi? sotto questi neon E-L-I-N? sei qui? no no forse non è in questa stanza dietro questo monitor E-L-I-N? no ok non è qui è un genio il nostro Erwin è un genio vediamo un po' allora so ovviamente che queste battute e questo scherzare ragazzi rovina l'atmosfera però ci tengo a precisarlo queste puttanate rovinano l'atmosfera più di qualunque cosa e quando succedono queste merdate che proprio ti prendono e ti tirano fuori dall'immersione nell'opera hai due cose da fare o ti incazzi o ci scherzi su e ci ridi quindi secondo me è meglio scherzarci su e riderci fin tanto che ci si riesce perché a volte le cose sono così gravi che proprio ti viene da strapparti i capelli però in questo caso ridiamoci su che è meglio tanto l'atmosfera la rovina già il gioco con mostri ruttanti e e ste robe ste scritte che potevano benissimo evitare e non mettercele qui abbiamo un altro buco che però sembra chiuso da questa angolazione no no noi entriamo entriamo perché non solo voglio poggiare la bevanda energetica e prepararmi con un inventario diverso ma voglio anche vedere se nell'appartamento è cambiato qualcosa no 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 ok i miei no 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 che faccio quando sono nell'appartamento sono cose che io so e che voi ancora forse non sapete se non avete mai giocato al gioco e le vedrete tranquilli le vedrete le vedrete il coso sembra identico diamo cos'è che mi sta bloccando ok vediamo l'appartamento di Aileen è rimasto identico a come l'ha lasciato la polizia tra l'altro il pupazzo lì ovviamente si vede benissimo che protende la mano verso di noi tipo aiutami portami via da qui nulla neanche fuori radio grazie grazie perfetto abbiamo anche le previsioni in mente ora prima di salutarci e chiudere l'episodio ho bisogno di mettere a posto l'inventario ovvero togliere la bevandina energetica ci lasceremo l'ascia la bambola ma in più andremo a prenderci la una mazza da golf perché le mazze da golf non sono male per niente cioè in realtà come vedete anche la descrizione è una potente è facile da usare ma ha l'aria fragile molto sono armi ottime e è proprio questo il momento del gioco in cui conviene iniziare ad utilizzarle ce le mettiamo da parte e poi le utilizziamo a mali estremi inizieremo ad utilizzare anche la pistola con abbiamo un casino di colpi quindi anche quella possiamo utilizzare il perché cominceremo adesso ad utilizzare armi ve lo spiegherò probabilmente verso la fine o la metà del prossimo episodio alla prossima ciao